Allora, questo è il dimostratore di Rampamp, che è un sistema per sollevare acqua in modo gratuito. Si sfrutta il principio del colpo di ariete, mediante il quale è possibile sollevare una quantità di acqua a quota superiore. In questa manifestazione abbiamo portato questo dimostratore, dove c'è una vaschetta, c'è un tubo che fa cadere acqua per una settantina di centimetri, poi l'acqua passa attraverso il rubinetto e praticamente esce su una valvola di fondo. La valvola di fondo di fatto fa uscire l'acqua, solleva il pistoncino e produce questo colpo che è in grado di far passare, mediante questa sovrappressione che viene generata, l'acqua in questa valvola di ritegno che poi viene sollevata. In questo momento, questo dimostratore è alto 4 metri, quindi con una caduta di 70 centimetri, siamo in grado di sollevare l'acqua per 4 metri. In questo momento sta uscendo in alto, dove c'è un imbuto, dove raccoglie l'acqua e la porta sempre dentro la vaschetta stessa. Allora, di fatto cosa accade? In modo sintetico, l'acqua che esce dalla vaschetta, l'80% viene praticamente a una telefonata. Possiamo dire in modo sintetico che l'acqua che esce dalla vaschetta, l'80% esce dalla valvola di fondo qui, mentre il 20% viene sollevata in alto. Possiamo anche vedere che la pressione massima è molto più alta di a 0,4 bar, tant'è che basta chiudere questo rubinetto, il colpo rallenta come frequenza e aumenta come pressione. Siamo in grado di sollevare l'acqua fino a 10 metri, ovviamente siamo costretti a stare sotto i 4 metri, perché lo stand è alto a 4 metri. Ok, possiamo inquadrare l'uscita, che adesso apriamo il rubinetto che abbiamo visto, quello in alto. E' uscito o no?